Pim e Iachin Kink Box Allora, senti un po', questa giornata dedicata allo sport hai portato tutti i bambini a parte anche gli adulti più grandi, ma però tantissimi bambini vuol dire che è uno sport che praticano anche i bambini Diciamo che è uno sport che è molto in crescita perché comunque sia... diciamo che ultimamente, negli ultimi anni, si sta e la fa vedere molto anche le tv tipo Italia 1, questi qua, quindi prende più visibilità ai bambini visto che sono piccolini, guardano molto la tv di conseguenza incuriosisce più che altro la tv nei ultimi anni Ci abbiamo anche adulti, ovviamente, che sono un po' agonisti questi qua sono due o tre agonisti sono venuti qua, non sono molto in forma dopo le ferie però dai, secondo te... Sì, certo, dal 1 settembre siamo aperti dal lunedì al venerdì Palestra Olimpica in Nassubiano, via Europa 30 Bene, allora naturalmente come la chiama lui è la kick più o meno è vero o no, però ecco, voglio dirti questo tipo di attività, questo tipo di disciplina considerando che sono dei bambini non è una disciplina aggressiva? No, assolutamente no, assolutamente no Sto pensando al carattere dei bambini, no? Che non si formino dei bambini aggressivi ma invece dei bambini riflessivi, attenti semmai a quello che li circonda Allora, i bambini innanzitutto quando entrano in palestra fanno tutto il salutino, vengono tutti vestiti uguali come una volta a scuola, che tutti andavano con il suo vestitino perché devono essere... Certo, tutti fanno il saluto si allenano, sudano fanno gli esercizi per la coordinazione fisica mobilità e motoria che è molto importante per loro crescono con delle... si divertono, si stancano e quando torno a casa sono molto più rilassate è peggio tenere, secondo me, un bambino chiuso in casa che guarda i cartoni animati magari che lo fanno studiare lo esauriscono che portarlo a un palestra a farlo stancare chi impara qualcosa impara l'arte impara la disciplina Bello Chi parla naturalmente ne parla con competenza perché Iachin stiamo parlando di un campione a livello europeo, giusto? Sì, ho vinto il 16 novembre del 2013 ho vinto il titolo europeo sono molto fiero ancora quando ne parlo mi vengono veramente i brividi però comunque ora ho avuto un'infortunità al ginocchio non sono riuscito a difendere se riesco a rimettere lo difenderò se no mi tocca abbandonare perché è impossibile insomma mantenere il piede in due scarpe Certo, però una cosa importante Iachin è il fatto che tu quando ne parli ne parli con competenza e professionalità e questo credo che sia fondamentale quando si va a fare anche una scelta di uno sport per i propri figli Certo, certo, certo che sì certo che sì io ci metto veramente cuore e anima sia con i bambini che con tutti perché comunque sia ovviamente è uno sport che comunque sia dipende come viene fatto se viene fatto a livello amatoriale c'è un sacco di coordinazione in base all'obiettivo del ragazzo però viene fatto con molta disciplina con molta disciplina un segno con tutto il cuore perché comunque voglio che loro abbiano più o meno anche diventano più bravi di me un giorno Ok, Olympic Inn naturalmente stiamo a Sudiano e stiamo a scoprire anche questo sport che già per ben due volte ha fatto il pienone nelle due manifestazioni che ha realizzato qui vuol dire che è uno sport che piace la cosa importante piace ai giovani mi piace è uno sport soprattutto giovanile e questo naturalmente è ancora uno sport da scoprire forse perché alla fine non è che proprio si conosce tutto della kickbox Allora ho organizzato solamente due manifestazioni tra la prima e la seconda si è visto veramente la differenza tra la prima e la seconda manifestazione che c'era molta più gente per non dire il doppio è uno sport bellissimo vi aspettiamo al palestra Olimpichino di Subbiano venite a provare che vedrai che rimarrete contenti poi provare non costa nulla è gratuito con la volta a mano con il mio brazo con il mio brazo con il mio brazo Giorgio Cervai